Buongiorno cari fratelli, Dio vi benedica. Benvenuti a Radio Blast al programma dal vivo con fratello Giuseppe. Ciao Giuseppe. Buongiorno. Infatti voglio dire dall'inizio, oggi è un giorno differente, è un giorno particolare, perché oggi è il compleanno di fratello Giuseppe. Happy Friday! E abbiamo qui i bambini e Deborah, che tutti ti abbracciano. Tanti auguri. Grazie. And my birthday wish to you is many souls for the kingdom. Ti auguro da parte mia per il tuo compleanno, molte anime salvate per il regno di Dio. And the word of God going through your mouth not to come back void. E che la parola di Dio che esce dalla tua bocca non ritorna vuota senza risultati. And I love you. E ti amo. E ti amo anch'io, gloria al Signore. Che il Signore mi aiuti a stare vicino a Gesù. Amen. Adesso è piccolino. John. God bless you, John. I love you. Ciao. Grazie di benedica. Paul, Jasmine. Happy birthday, Larry. Grazie anche a te. Grazie di benedica. Alleluia. Amen, amen. Sto ringiovanendo. Amen. Mi avvicino sempre di più a Gesù. E quello è importante, che Gesù sta crescendo. E per questo preghiamo questo giorno speciale per te, che la gente che ti conosce vedrà Gesù in te. Eh sì. Gesù che cresce in te. Non è che sto facendo un grandissimo buon lavoro, perché la gente a volte confonde me con quello che Gesù fa e dice, oh, frate Giuseppe è qui, frate Giuseppe là, invece solo Gesù, perché se conoscesse frate Giuseppe saprebbero che sono solamente una persona normalissima, a volte meno del normale, e ogni tanto il Spirito Santo viene fuori e allora gloria al Signore. Occhi sullo Spirito del Signore, mai sull'uomo. Amen. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. E visto che... Grazie, Deborah e i bambini. Ci sono... C'è un gruppo che manca, sono in quattro. Eh sì. Dove sono? Sono fuori, sono usciti da un'ora. E chi è? Dora, Gabriele, Adriane. Adriane, Gabriele e Andrea, sì. Sono usciti ad evangelizzare. Stanno passando questo giorno facendo raccolta di cibo, mezzogiornata in un supermercato, come abbiamo fatto anche ieri, e poi l'altro mezzogiornata vanno a evangelizzare nelle strade. Allora, Signore. E con chi evangelizzano oggi? Allora, saranno con due squadre che sono arrivati dall'Italia due giorni fa. Ci sono Giorgio e Denise. Ci salutiamo e vi vogliamo bene. Adesso ci stanno ascoltando. Ok. E anche Lorenzo e Yolanda. Vi vogliamo bene. Ok. E questo pomeriggio vanno insieme ad evangelizzare. Gloria, Signore. Stamattina ho avuto l'occasione di parlare con Lorenzo e Yolanda. Sono fratelli dolci, molto dolci. Ho sentito proprio la presenza di Gesù in loro. Ameno. Ho parlato con loro al telefono e sono molto, molto dolci. Grazie, Signore. Sono dei fratelli che sono arrivati e il biglietto è solo andata. Quindi pregare. Sono condannati ad avere successo. Alleluia. Ameno, ameno. Sono obbligati ad avere successo perché... Ameno. Come fanno a tornare? Dovranno fare autostop con una nave. Eh sì. Quindi... E noi ce la metteremo tutta a consigliare, pregare per loro che ce la facciano. Che non è difficile. Basta solo abbandonare tutto per Gesù. Basta solo dare tutto il cuore al Signore. E che sai, quando tu ti sposti e non vai solo per salvare la pellaccia, ma vai per il Signore. E il tuo lavoro, il tuo impiego, tutto il resto è il secondo posto. Il Signore è obbligato a benedirti perché non può fallire la sua parola. Ameno. Però se uno si esce dall'Occidente, dall'Europa, solamente perché arriva l'Anticristo, il marchio della bestia... Infatti a volte mandano a me, qualcuno scrive e dice quanto soldi si guadagna lì? E quindi guarda che la visione è sbagliata, fratello. Perché quando vai via, il tuo lavoro ti chiama, Deborah? Ciao. Ti voglio bene, Dio ti benedica. E quando chiesero a Gesù, Signore, io ti seguirò ovunque tu vai. Cos'è? Luca 9, 57. Dice, beh, mi vuoi seguire? Sai, guarda che le volpi hanno delle tane, gli uccelli hanno dei niri, ma il figlio dell'uomo non ha dove appoggiare il capo. Va bene? Quindi, se vogliamo essere sicuri che il Signore ci benedice, cerchiamo di non spostarci solamente perché abbiamo paura dell'Anticristo, ma perché è volontà di Dio. Va bene? Ameno. Gloria al Signore. Allora, visto che oggi fai quanti anni? Poca roba, 68. 68? 68. Voglio leggerti all'inizio del programma il Salmo 68. Ok, è lungo, eh? Oggi tutto stralci. No, stralci, sì. Ok. Salmo 68. Si alzi Dio e i Suoi nemici saranno dispersi, e quelli che l'odiano fuggiranno davanti a Lui. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così periranno gli empi davanti al Dio. Ma i giusti si rallegreranno, triunferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia. Cantate a Dio, salmeggiate al Suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti. Il Suo nome è il Signore, esultate davanti a Lui. A quelli che sono soli, Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. Sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Il nostro Dio è un Dio che libera. Dio il Signore ci preserva dalla morte. Il Tuo Dio ha decretato la Tua potenza. Conferma, oh Dio, quanto hai fatto per noi. Nel Tuo Tempio, che sovrasta Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Minaccia la bestia dei canneti, il branco dei tori con i vitelli dei popoli, che si prostrano portando verghe d'argento. Disperdi i popoli che amano la guerra. Riconoscete la potenza di Dio? La Sua maestà è sopra Israele e la Sua potenza è nei cieli. Oh Dio, Tu sei tremendo dal Tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e potenza al Suo popolo. Benedetto sia Dio! Pratelo Giuseppe, per oggi, che è il tuo compleanno, voglio chiederti di condividere con noi un messaggio che hai imparato tu nella Tua vita, nel tuo servizio per Gesù. Un messaggio importante che possiamo dare anche agli altri. Qual è la cosa grande che tu hai imparato nella Tua vita per Gesù? Guarda, una delle cose più importanti che mi ha consentito di andare avanti in questi 42 anni per il Signore è stata di sempre guardare Gesù, il Signore e mi sono trovato in contatto con organizzazioni cristiani e religioni buoni e meno buoni, nella volontà di Dio, meno nella volontà di Dio e mi sono sempre abbarcamenato perché ho sempre diretto la mia barca verso una stella, ok? La stella di... vogliamo andare alla stella, Apocalisse 22. Allora, vediamo... Dice... Allora, verso 13, vuoi leggere? Apocalisse 22, 13? Sì. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. 16. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Gloria a Dio. Quindi Gesù è la lucente stella del mattino, che il diavolo ha cercato di imitare, il lucifero vuol dare la luce, vuole essere la luce, ma invece la vela... La luce è Gesù Cristo, la stella del mattino è Gesù. Nella mia vita ogni volta che sono uscito da un labirinto, una foresta, problemi insormontabili, le montagne da spostare, ci sono riuscito a guardare Gesù. Ecco, questo è tutto qui. Amen. E adesso ho un messaggio che Gesù mi ha dato, che voglio condividerlo. Si chiama, stiamo costruendo la nostra casa sulla sabbia? Sulla sabbia del mondo o sulla roccia Cristo? Questo è il messaggio. Amen. Su cosa stiamo costruendo la nostra vita? Sì. Sulla sabbia del mondo o sulla roccia che è Cristo? Posso darlo? Sì. Posso andare? Sì. Allora, Dio lascia a noi di scegliere tra le benedizioni o le maledizioni in questa vita ed eterna. Ogni nostra decisione è una scelta. Cosa stiamo scegliendo? Molto spesso veniamo feriti da persone e situazioni ma Dio è più che in grado di aiutarci, di guarirci, di ristabilirci alla nostra condizione di figli di Dio che lo glorificano. Dio rimedierà a tutte le cose ingiuste che possiamo avere ricevuto e che mai riceveremo, come dice in Matteo 5, dal 3 al 9. Ma per quanto riguarda le nostre benedizioni eterne e anche riguardo a gran parte della nostra felicità qui ed ora, Dio fa dipendere queste cose da noi. come scritto nel Vecchio Testamento. Ti ho dato delle scritture, ce le hai? Sì. Terronomio 30, 19. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Capito? Quindi oggi dico perché Dio permette il male, perché permette le guerre, perché, 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 perché? Cosa vogliamo? Un mondo come la Fiat, come la Volkswagen, un mondo dove ci sono robot che costruiscono le macchine. Vogliamo un mondo, la perfezione del diavolo che viene, che porterà la perfezione al mondo dove tutti faranno la cosa giusta, giusta secondo il suo metro di misura perché avranno un microchip, potranno solo obbedire a qualunque Hitler, Stalin, che prende potere nel mondo? Proverbi 18, 21. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. Quindi Dio dà la scelta a noi. Il diavolo si è potuto ribellare perché aveva una scelta. C'è scelta in cielo. Si può scegliere il male, si può scegliere ribellarsi contro Dio. Il diavolo lo ha fatto. Ecco perché serve tutto questo inferno qui. Per vaccinarci, per insegnarci a scegliere il bene. Dio ci ha creato a sua somiglianza. Ha detto Gesù in Giovanni 10, non avete letto nel Vegli Restamento, nei profeti, dice, ecco voi siete dei. Frasier dice, tu ti chiami, tu ti fai figlio di tutti, tu ti fai Dio. Non avete letto che voi siete dei. Dio ci ha creato a sua somiglianza. Questo è che il diavolo è così geloso, invidioso di noi, perché siamo fatti a somiglianza di Dio. Il diavolo non era stato fatto a somiglianza di Dio. Quindi è gelosissimo. Perché noi sì e lui no. Per questo è che abbiamo potere sul diavolo di cacciare demoni. perché siamo fatti a somiglianza di Dio. In Cristo noi riceviamo tutto il potere che Adam e Eva avevano abdicato quando misero sul trono di Dio, misero Satana. E persero il potere sul mondo. Perché in Genesi 1 Dio disse abbiate dominio su ogni cosa che si muove nel mondo, su ogni cosa che vive. Quindi il diavolo vive, sì, abbiamo dominio su di lui. I germi vivono, sì, abbiamo dominio sui germi che danno malattie. Il cancro vive, sì, abbiamo dominio sul cancro. Va bene, ci sono dei fratelli che ci hanno scritto stamattina che vogliono preghiera su cosa, mi hai detto? Per un parente che sta soffrendo proprio di un tumore, di cancro. Pregheremo e lui sarà guarito nel nome di Gesù Cristo. Lo dichiariamo guarito, deve solo credere. Nel nome di Gesù. Cerchiamo di renderci conto che in Cristo siamo tornati al potere di Adam e Deva che avevano potere su tutto, gli uccelli che volano, gli animali. Abbiamo potere su tutto. Il potere che il diavolo sta usando nel mondo è il potere che gli ha dato Adam e Deva. Quando hanno abdicato il loro potere l'hanno passato a Satana. Però tornando Cristo, venendo Cristo, ecco che riprendiamo il nostro potere. Se smettiamo di ascoltare la nostra stupidamente carnale che ci dice che non abbiamo la fede, cominciamo a mettere in pratica la nostra fede, cominciamo a credere. Ed ecco che vediamo i miracoli, li vediamo in continuazione, no? Non solo io, ma qualunque fratello che... Adesso i nostri... Io vedo i miei piccoli bambini spirituali che mi scrivono, da tutto il mondo dicono ho imposto le mani ed è guarito. Ho comandato il diavolo e se n'è andato. È vero. Va bene, quindi non c'è più grande gioia di vedere che i miei figli operano anche senza di me, solamente con le cose che gli abbiamo insegnato in Cristo e nel Vangelo. Questa è la mia gioia. Cerchiamo di non essere fratelli che siete guide di comunità, ne abbiamo diversi. Cerchiamo di non essere gelosi perché sono fratelli della nostra comunità che profetizzano più di voi, evangelizzano più di voi, cacciano più demoni di voi. Dovete essere felici. Allora, questo è nel Vecchio Testamento. Abbiamo letto, tra l'anormio 30 e 19, che la vita e la morte davanti a noi per la nostra scelta. Andiamo nel Nuovo Testamento. Qualcuno dirà, quello è il Vecchio Testamento. Ma calmati, Galatia 6,8. E poi andiamo a Apocalisse 22. Perché chi semina per la sua carne, metterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, metterà dallo spirito vita eterna. Ecco che si ripete la stessa verità di Deuteronomio 30 e 19. Quindi noi mietiamo quello che seminiamo. Non puoi seminare cocuzze e mietere cavolo fiori. Mieti quello che semina. Se semina egoismo, se vivi per la spada, morirai per la spada. Apocalisse 22, 11 e 12. Esatto. Chi è ingiusto, continui a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro, continui a essere impuro. E chi è giusto, continui a praticare la giustizia. E chi è santo, si santificia ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno, secondo le sue opere. 2000 anni fa Gesù dice sto per venire. Come mai da 2000 anni non è venuto? Qui diceva sto per venire. Satanisti diranno errore biblico. Sto per venire, 2000 anni fa non è ancora venuto. Rispondi Angela. Ma è venuto. Nel mio cuore è venuto. Beh, qui sta parlando di dare ricompensa. Sì, è vero. No, quello che vuol dire qui, Angelina, l'ho già detto nel nostro corso biblico profetico, l'ho già detto. E quando dice sto per venire, sta parlando che in questi 2000 anni ogni volta che uno è morto Gesù è venuto per lui, capisci? Ok. Perché è andato in cielo. Esatto. Quindi Ebrei 9, 27 dice è dato agli uomini di morire dopo di che viene giudizio. Quindi vuol dire che appena tutta la gente che è morta in questi 2000 anni Gesù è venuto per loro. E andranno al loro giudizio. Quindi perfettamente alla lettera. Tu glielo puoi dire ai satanisti che contraddicono la parola. Dio ci ha dato la sua parola per aiutarci a scegliere Salmo 119, 105. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Ok. Quindi la parola ci mette luce sul nostro sentiero affinché ad ogni decisione, va bene, possiamo farla alla luce della parola di Dio. Così che non facciamo decisioni sbagliate. Stamattina stavo parlando con Lorenzo che è appena arrivato, sono appena arrivato con l'aereo, lui e sua moglie. E gli stavo dicendo fratelli attenzione avete scelto di venire con il biglietto di sola andata. Io vi benedico. Però attenzione non fate sbagli. Non fate sbagli perché il Signore vi benedirà, vi darà successo, ma dovete assolutamente chiedere a Gesù ogni passo. Non prendete il lavoro sbagliato, andate dalla città sbagliata, affittate la casa sbagliata, eccetera. E loro hanno detto ok, noi vi aiuteremo, consiglieremo. E hanno detto va bene. Ecco, quindi questo lo dico a tutti. Attenzione a ogni passo che facciamo, illuminare ogni passo con la luce della parola. Non quello che dice la televisione, le chiese, le religioni. La parola. Proverbi 6, 20 a 24. Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Tienili sempre legati al cuore e attaccati al collo. Sto parlando di genitori in Dio, nel Signore. Non genitori degenerati che non gli interessa di Dio, che sono credenti nominale, ma di veri genitori che veramente hanno dato la vita a Gesù. Quando camminerai ti guideranno, quando dormirai veglieranno su di te, al tuo risveglio ti parleranno. Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce. Le correzioni e la disciplina sono la via della vita, per guardarti dalla donna malvaggia, dalle parole seducenti della straniera. Che qui parla dell'adulterio, ma si può applicare a qualunque decisione sbagliata, perché Dio ha scelto di proteggerci attraverso la nostra ubbidienza alla sua parola. Non ci benedice il Signore, non ci protegge una bacchettina magica, ma l'ubbidienza alla sua parola. La soluzione del mondo, come detto, è di portare il suo falso paradiso sulla terra con un mondo di gente automatizzati, microchippati e marchiati col chip. Questa è la soluzione del mondo. Invece, la soluzione di Dio è Cristo, l'amore, la parola, il Vangelo. Fratelli, oggi io compio 68 anni. Voglio dirvi, la nostra vita non è lunghissima e potrebbe finire alla prossima curva, prima del prossimo paragrafo, nel libro che è la nostra vita. Non abbiamo tempo da perdere in sciocchezze, a credere alle promesse del mondo, a correre dietro alle illusioni del mondo. Dobbiamo andare al concreto, andare a ciò che è sicuro, e quello è solo Cristo Gesù. C'è stato un uomo, chiamato il più saggio della Bibbia, che ha detto, Ecclesiaste 1,14 Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Fratelli, c'è qualcuno di noi ancora che corre dietro al vento, il vento di questo mondo, il vento del materialismo, il vento della pornografia, il vento dei soldi, i venti del mondo? C'è solo un vento, che il Signore manda, si chiama lo Spirito Santo. Dobbiamo chiederci, come sto investendo la mia vita? Per il meglio, o seminando per i venti del mondo? Dobbiamo chiederci, la casa che sto costruendo, è basata sul mondo, e la dovrò lasciare col mondo, quando entro nella bara, eccetera? o è una casa per Dio, che durerà in eterno? Che tipo di casa stiamo costruendo? Una materiale, che dobbiamo lasciare, o una spirituale, che porteremo con noi? Io, per grazia di Dio, Gesù mi ha dato la saggezza, e la sto condividendo con voi, con quelli di voi che l'accettano. Io sono 42 anni, che costruisco una casa spirituale, non sono l'unico, ci sono altri fratelli meglio di me per il mondo. Ok, però, ho costruito una casa spirituale, e i mattoni siete voi che mi state ascoltando, consacrati a Gesù Cristo, appartenete a Gesù, siete di Gesù, io non c'entro niente, siete di Gesù. Perché ho trovato pietre morte, stramorte, possedute, diretta all'inferno, ho dato il messaggio di Gesù, sono diventate vive, felici, effervecenti, spumeggianti, allegri, e state andando per il mondo, a evangelizzare, a amare Gesù come me, e meglio di me. E questo mi riempie il cuore. Allora, come si fa a sapere, che tipo di casa, stiamo costruendo? Facciamo un inventario nella nostra vita? Domanda, è possibile giudicare noi stessi? Gesù dice, leggiamo quel bellissimo passaggio dalla casa, Matteo 7,24-27. Perciò chiunque ascolta queste mie parole, e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto, che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole, e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta, e la sua rovina è stata grande. è la casa della nostra vita. Vediamo queste case che cadono, sai, tu guidi la macchina, guardi a destra, a sinistra, a volte vedi i casolari abbandonati, case bruciate, guidi ancora un po', qualche chilometro, ecco un'altra casa diroccata, e così sono le nostre vite. Poi vai ancora avanti, vedi una casa bellissima, ben curata, e vedi le case che cadono, case che cadono nella depressione, nella malattia, nel peccato, nel divorzio, e vedi case forti, robuste. Dio mi ha dato una casa robusta, ma non è stata caso. Io ho una casa bellissima, robusta, una casa spirituale, qui nessuno può abitare nella mia casa che non ama il Signore, che non legge la parola, che non crede nella Bibbia, che non va a evangelizzare. Se tu appartieni a una casa, a una chiesa, che non sta seguendo il Signore, devi cercare di evangelizzarla. Se non ascolta la parola, esci da Sodoma, e chi ti segue, ti segue. Se la moglie di Lot ti segue, bene. Se la moglie segue Lot, ok. Se la moglie di Lot non lo segue, vada senza la moglie di Lot. Cambiare la tua chiesa, evangelizzarla, la tua casa, la tua famiglia, la tua chiesa, fa diventare una casa, una chiesa di Dio. Quindi guidarla verso il Signore. E se non vuole seguirti, vai avanti. Tu non lasci la casa. La casa lascia te. Sempre seguire il Signore. Gesù andava sempre avanti. Ha lasciato la sua madre Maria, ha lasciato il suo padre putativo, ha lasciato i suoi fratelli. come dice in Giovanni 7,5, neanche i suoi fratelli credevano in lui. Paolo ha lasciato la sua religione, ha lasciato i suoi colleghi, i suoi amici farisei, ha seguito la volontà di Dio. E noi? Cos'è stiamo facendo? Siamo lì impantanati in un gruppo di persone intorno a noi, una chiesa, che non gli importa assolutamente niente del Signore, tranne magari scaldare una panchina la domenica. e noi siamo lì a lamentarsi che loro non leggono la parola, non vanno a evangelizzare, ci criticano. E cosa ci fai lì? Perché non esci ogni mattina e vai a seguire il Signore a evangelizzare? Chi ti segue, ti segue, chi non vuole, che rimanga dove sia. Tu segui il Signore. Non possiamo dire al Signore un giorno, Signore, io nella mia vita ho concluso praticamente niente, qui c'è il tuo talento, l'ho avvolto in un pannolino, eccolo, qui c'è il pannolino della chiesa, dalla panchina dove ero seduto, dalla mia famiglia che era contro Dio, qui c'è il pannolino, non ha portato frutto, colpa della mia famiglia, dei miei amici, della mia chiesa. Il Signore dirà, servo malvagio, tu sapevi che io mieto dove non semino, perché non hai dato il tuo talento ai banchieri? E Gesù dice andare alle banche, no, sta parlando di banchieri spirituali, in questo caso una missione dei missionari, dei fratelli che sanno far fruttare il tuo talento, il tuo talento è il tuo tempo, le tue parole, la tua vita, le tue finanze, la tua casa, quello che puoi fare, ti insegneranno come fare, segui, vai da loro, portagli la varigetta, portagli i volantini, portagli i cd, stampagli i cd, se non li puoi distribuire lo faranno loro, leggi Matteo, leggi Matteo, leggi Matteo 10, 41, credo, cioè se tu non puoi essere un profeta, aiutane uno, se non puoi essere un evangelizzatore, aiutane uno, alla fine sarei benedetto esattamente lo stesso, capisci, Eliseo fu benedetto come Elia, divenna come lui, ma altri, Gesù dice anche se non sei Eliseo, sarei benedetto come tu Elia, a condizione che? Matteo 10, 41, chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto, riceverà premio di giusto, va bene, quindi se te metti un giusto in condizione di essere giusto, di evangelizzare, portare frutto, riceverai il stesso suo premio, ecco, hai messo il tuo talento nei banchieri, quello è Matteo 25, la parabola dei talenti, andiamo alla prossima scrittura, penso che sia Primo Corinti 11, 30, 32, chi parla? Il nostro amato fratello Paolo. Per questo motivo, molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con il mondo. Quindi sta parlando della comunione fatta con mezzo cuore, per questo motivo, molti sono infermi e malati, e molti muoiono. Alcune Bibbie traducono, molti sono a dormire, vuol dire morire. Questo perché? Perché non vedono, non discernono il corpo di Cristo, non discernono la parola di Cristo, non seguono la parola del Signore, non fondano la loro casa sulla roccia. Quindi, attenzione a non credere al mondo, perché ogni progetto che intraprendiamo, ogni promessa e speranza, per esempio, che i politici, i finanziari del mondo ci offrono, sono sempre e solo bugie. Siamo in un mondo di bugie. Il mondo è una foresta di bugie. Ogni pubblicità che ascolta televisione è una bugia. Ogni promessa dei politici è una bugia. I politici non si fanno a leggere che vogliono aiutare l'Italia, si fanno a leggere perché vogliono che l'Italia aiuti loro. Non vanno lì per innalzare il popolo, vanno lì che il popolo innalzi loro, dittatori. Dunque, sono sempre state bugie politiche. Quindi non ascoltate, non credete a quella gente. Non si avvereranno mai come mai si sono avverate. Il mondo, come Brancola, nel buio delle proprie bugie, e adesso neanche il mondo stesso crede in quello che dice. E poi, però, poi pretende di avere il diritto e l'autorità di guidare noi. Parliamo della politica, della grande finanza. Non stanno andando da nessuna parte. le loro promesse hanno guidato i loro popoli e li hanno traditi alla fine, li hanno affondati nei debiti, nelle tasse che dissanguano, nella povertà, nelle guerre, nella distruzione, nella morte. Quindi non costruite la casa nel mondo. Il topico di questo messaggio è attenzione su cosa? Costruite la casa. Perché parlavo dei politici, loro si presentano sempre pieni di sempre nuove, di diverse promesse, soluzioni e benessere, ma chi non è cieco cosa vede? Che queste promesse dei politici sono sempre al futuro. Un futuro che non è mai venuto e non potrà mai venire per il motivo che le loro promesse sono basate sull'egoismo degli uomini. Ci vuole una conversione, una rigenerazione in Cristo perché il mondo cambia. E' inutile di mettere la legge giusta se la gente non la vuole eseguire. I politici del mondo non hanno mai mantenuto nessuna delle loro promesse in passato e pretendono che noi crediamo a quelle delle loro promesse del futuro. Cioè, è come che se uno in piena banca rotta che non ha mai pagato i suoi debiti ci desse un assegno datato per i prossimi anni. Dobbiamo essere pazzi per crederci e quando vai a votare stai facendo questo. Io quando sono andato a votare ho messo scrittura sulla scheda. La scrittura è la salvezza. Cosa vuoi votare? Si tratta di sceglia tra una pedata di dietro o un pugno in faccia. Se sei stanco di pedata vota per il pugno ma si tratta di quello. Che tipo di mafia preferisci? Che mafia che ti sfrutta così o che ti sfrutta cos'ha? Eppure quelli che vanno a votare ci credono molti io no di certo. Ci credono perché non hanno l'alternativa non hanno l'alternativa che abbiamo noi quella è l'alternativa Angelo. Gesù è Dio. Gesù Cristo Dio la verità il Vangelo la sua salvezza. Amen. Parliamo di religione come al solito la maggior parte della religiosità e questi quelli che basano ma devo parlare sempre di religione perché la stragrande maggioranza di quelli che leggono la Bibbia si basano sulle religioni la maggior parte della religiosità del mondo non ha ancora nemmeno capito se spenderà l'eternità col diavolo all'inferno o con Cristo in cielo questa è la religione però pretende di avere il diritto i religiosi di insegnarci a capire la Bibbia loro che non la capiscono e questo solo perché hanno fatto una fotocopia di diploma religioso con un timbro fresco timbrato da loro i stessi colleghi che Gesù è chiamata altrettanto ciechi quanto loro ok e come si fa? come si fa a credere la religione altra casa sfasciata basata sulla sabbia da uscire parliamo delle scuole all'università perché abbiamo dei fratelli che vanno ancora a scuola che vanno all'università in realtà ti servono solo 4, 5, 6 anni di scuola imparare scrivere leggi un po' di matematica poi se vuoi fare elettricista ti ordini online un libro dell'elettricista vuoi fare elettricista le scuole e l'università ci insegnano che il mondo evolve che la scienza progredisce ma i frutti di questo per quelli di noi che non sono ciechi totali allo spirito e invece che il mondo non sta evolvendo sta devolvendo regredendo sta diventando sempre più criminale inquinato con sempre più armamenti atomici chimici sempre più terrorismo quale evoluzione sempre più inganni politici imbrogli di tasse che ti succhiano il sangue rapine legalizzate dagli stati stati che nel nome di democrazia e socialismo ti sfruttano e ti succhierebbe l'ultima goccia di sangue per il loro benessere se potrebbero come proprio Dio dice nella sua rappresentazione di come lui vede il sistema che io lo chiamo cancerogeno che opprime quelli che a differenza di me e altri come noi che rimangono ancora in questo sistema del mondo il sistema del mondo di oggi il sistema che Dio chiama come lo chiama Babilonia che la Bibbia dice è la più grande in Apocalisse 17-18 che parla di Babilonia e gli spiega bene Babilonia è la più grande madre delle puttane sanguisughe mai esistita cos'è? è un sistema adorato da quei sacerdoti vestiti da politici e banchieri in quei templi di oggi che si chiamano banche cosa parlo? parlo ovviamente non di quei poveraci vittime in quei templi dove solo vi lavorano quei templi bancari intrappolati che non sanno neanche cosa cosa fanno ma sto parlando invece non parlo di queste vittime che lavorano in banca o un poverino che sta con tanti soldi con un mezzo stipendio sto parlando di quelli che sanno cosa succede quelli che veramente le banche le possiedono non le banche che sono tutte le bancarotte quelli che hanno rapinato dalle loro banche hanno traslocato a previsi fiscali hanno dichiarato bancarotta parlo di quei vampiri che dominano il mondo sui cadaveri di quelli che muoiono a casa loro intere nazioni stanno morendo di fame dice il Signore Giacomo 5 1 a 6 a voi ora o ricchi piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco avete accumulato tesori negli ultimi giorni ecco il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage avete condannato avete ucciso il giusto egli non vi oppone resistenza voi avanti con le scritture ti ho dato altre scritture ce le hai? Apocalisse 17 poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi vieni ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque i re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlato piena di nomi di bestemmia e che aveva sette teste e dieci corna la donna era vestita di porpora e di scarlato adorna d'oro di pietre preziose e di perle in mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione sulla fronte aveva scritta un nome un mistero Babilonia la grande la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra e vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia e l'angelo mi disse perché ti meravigli io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le sette teste e le dieci corna che la porta le dieci corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta la spoglieranno e la lasceranno nuda ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute e la donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra amén fratelli protestanti interpretano queste scritture che è questa la chiesa cattolica in realtà questo è il sistema e molto di più il sistema materialistico mondiale sarebbe il sistema bancario la rete delle banche mondiale sono quei quei demoniati nascosti nelle tenebre che controllano i soldi del mondo la cui base il centro delle banche si sa è Nova York quindi qui sta parlando sia di Babilonia che è il sistema finanziario mondiale sia anche dalla base di Babilonia che oggi è diventata l'America comunque per quanto riguarda noi fratelli il nostro pellegrinaggio siamo tutti in pellegrinaggio questo mondo è come la grande valle di lacrime e nebbie piena di fango questo mondo è limitato a poco tempo grazie a Dio cerchiamo fratelli di non pellegrinare verso mete sbagliate attenzione a non abboccare alle esche di Babilonia che è il materialismo non andate in quei tempri di materialismo che sono i centri commerciali ad innamorarvi del nuovo telefono del nuovo smartphone che ogni tre mesi ne esce uno nuovo e non riuscite mai non riuscite mai a correre dietro abbastanza velocemente occhi sulla Bibbia buttate via quei telefoni a meno che non vi servano per Gesù e poi mettetevi in tasca la Bibbia i volantini del Vangelo i nostri cd o qualunque cosa per evangelizzare cosa vuoi che gli interessa la gente che va all'inferno che tipo di smartphone che hai interessa di Gesù quando arriviamo alla morte chi è che morendo dice dove è il mio smartphone ho bisogno di aiuto chi è quel pazzo che è in punto di morte i fratelli che ci scrivono che dico sto morendo perché loro non prendono il smartphone e chiedono una soluzione online in internet perché non c'è perché è tutto immondizia tutto fumo niente arrosto il mondo e lo spirito malefico di questo mondo è in azione per zombificare e rincretinire le masse onde è meglio guidarle come dal bestiame per molti versi politici e finanziari le religioni operano insieme di concerto il primo inganno è di ingannare le idee poi diciamo i politici ingannano le idee poi arrivano i finanziari che ti ripuliscono le tasche e poi riunono i religiosi che benedicono tutto quindi lavorano insieme questi qua capito quindi Gesù ci chiama ad uscire dal branco cosa si dice Gesù Angelina Matteo 4 19 e 20 e questo parlando a me e a te e disse loro venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini ed essi lasciate subito le reti lo seguirono Luca 14 33 così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo e primo Giovanni 2 da 15 fino a 17 non amate il mondo né le cose che sono nel mondo se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui perché tutto ciò che è nel mondo la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal padre ma dal mondo e il mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno amén Giovanni 8 12 io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita amén amén guarda molti guarda Malachia 2 guarda verso 1 perché molti si lamentano perché i nostri messaggi sono un po' troppo radicali che non parliamo in modo sdolcinato come fanno le religioni morte che predicano solo quello che la gente gli piace ascoltare con molto zucchero che sono soldi e non ne danno ma noi invece siamo qui ci interessa con piacere al Signore per chi si lamentasse che siamo un po' radicali al nostro parlare per cortesia sappiate che Dio è più radicale di me ok attenzione va bene guarda qui per esempio questo è quello che Dio ha detto ai religiosi ipocriti che ingannavano le sue pecorelle guarda Malachia 2 dall'1 al 5 ora quest'ordine è per voi o sacerdoti se non ascoltate e se non prendete a cuore di dar gloria al mio nome dice il Signore degli eserciti io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni anzi le ho già maledette perché non prendete la cosa a cuore quindi chi va in chiesa a farsi benedire attenzione quelle benedizioni sono maledette da Dio perché? perché queste chiese non prendono a cuore la sua parola ma questo non è tutto il Signore continua ecco io sgriderò le vostre sementi perché non producano vi getterò degli escrementi in faccia gli escrementi delle vittime offerte nelle vostre feste e voi sarete portati fuori con essi e questo è l'ultimo messaggio che Dio dà ad Israele e poi non parla più per 400 anni fino alla venuta di Gesù va bene questo è l'ultimo messaggio che gli dà dice vi prenderò a escrementi in faccia quindi andate nella chiesa addormentate e dite il Signore vi prende a voi a escrementi in faccia si offendono alla grande e gli dice alto non ti offendere vattolo a leggere questo è quello che il Signore dice alle chiese che non prendono a cuore la sua parola io non ti giudico però voi andate davanti allo specchio della parola del Vangelo e specchiatevi se state prendendo a cuore quello che c'è scritto allora saprete che io vi ho dato quest'ordine perché sussista il mio patto con Levi dice il Signore degli eserciti Levi sarebbe la tribù di Israele da cui venivano i Leviti cioè quelli che accudivano al Tempio cioè quindi la tribù il cui scopo era di aiutare Israele a vicinarsi a Dio non possedevano terreni un po' come noi non possediamo cose i Leviti vivevano di offerte più come noi perché non avevano possessione e neanche le abbiamo noi ok e nella vita ha avuto occasione di possedere case eccetera non le ho mai volute perché le possessioni diventano una palla al piede una palla a catena quindi i Leviti erano quelli che non possedevano terreni va bene però la loro eredità era l'Eterno era il Signore il Dio del Cielo 5 il mio patto con Lui era un patto di vita e di pace cose che io gli diedi perché mi temesse e gli mi temette e tremò davanti al mio nome alleluia quindi gloria al Signore fratelli siamo tutti Leviti oggi si chiamano discepoli di Cristo quindi togliete gli occhi delle vostre possessioni che possiate case terre dovete lasciare tutto non ci porteremo niente nella tomba dare tutto al Signore spendete quello che avete e sacrificatelo per il Vangelo per la vostra evangelizzazione il vostro predicare il Vangelo il vostro spostarvi per il Vangelo non vi spostate dall'Italia per andare a diventare ricchi in Sud America o in Sud Africa o in Sud Asia va bene cercate di dare tutto al Signore mettere tutto sull'altare del Signore perché non ci porteremo niente ma dice Paolo avendo da mangiare da vestirsi bisogna essere contenti con quello il microchip e l'anticristo il marchio voglio parlare di quello io direi che queste cose in un certo senso l'anticristo il microchip che viene il marchio dalla bestia saranno una benedizione perché Angela perché il marchio della bestia sarà una benedizione indiretta perché separerà le capre dalle pecore esatto brava vedo che hai fatto i compiti dopo scuola se non fosse una benedizione almeno indiretta o che Dio non lo permetterebbe Romani 8.28 dice tutto copra fin di bene per quelli che amano al Signore tutto copra fin di bene dice Romani 8.28 quindi anche il diavolo anche i demoni anche la ribellione tutto opera che purgherà la Chiesa Amen altrimenti Dio non lo permetterebbe quelle cose ci costringeranno a fuoriuscire dal mondo sto parlando l'anticristo tribolazione microchip e a confidare darci completamente al Signore e purificheranno la Chiesa Gesù e i suoi non davano assolutamente nessuna importanza a quello che il mondo pensava di loro e il fatto che il mondo li rigettava Luca 6 Gesù parla di questo quindi non vi preoccupate se il mondo vi rigetta il mondo vi odia il mondo vi tratto come pazzi il mondo vi offende voi occhi gli occhi sul cielo occhi alla luce la Bibbia in mano Gesù nel cuore va bene Luca 6 21 26 Beati voi che ora avete fame perché sarete saziati Beati voi che ora piangete perché riderete Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scaceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia perché ecco il vostro premio è grande nei cieli perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti ma guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione il sistema bancario quelli che vi prendono le tasse guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame sazi quelli ricchi che non usano la loro ricchezza per Gesù guai a voi che ora ridete perché sarete afflitti e piangerete guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi perché i loro i padri loro facevano lo stesso con i profeti alleluia quindi guai quando gli uomini diranno bene di voi ma benedetti quando diranno male di voi per il mio nome non male di voi perché andate in giro a imbrogliare male di voi perché per il Vangelo è una gloria è un onore essere perseguitati per il Signore facciamocelo entrare bene nella testa non consideriamoci un fallimento perché il mondo del diavolo ci odia ma anzi è un successo in base a quello che Gesù insegna è un ottimo segno quando il mondo ci odia ci deride ci critica ci perseguita quando ci chiamano pazzi significa che siamo nel gruppo dei profeti e di Gesù va bene e quando siamo in quel gruppo Gesù ci dice Matteo 5,11 e 12 Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi va bene fratelli facciamoci l'abitudine a essere perseguitati e trattati come Gesù anzi una gloria e un onore e non possiamo essere discepoli se questo non avviene e se siamo di Gesù allora dobbiamo essere orgogliosi di essere trattati come il mondo ha trattato perseguitato e crucifisso lui parole grosse so che queste cose le chiese le cantano ma per nella vita cristiana è vero deve venire un momento che viene praticato questo allora e gloria al Signore ecco cosa mostra queste scritture che sono le religioni mostrano che sono i falsi profeti sono loro che cercano di essere riveriti ed essere ricevuti dal mondo noi non dobbiamo cercare di essere ricevuti dal mondo ma andare avanti con l'amore di Gesù amando amando le persone amando il mondo amando tutti ma non a costo di non predicare il Vangelo non facciamo come quelle chiese che oggi stanno aprendo agli omosessuali a sodomiti a diavoliti e tutti quanti perché se no le chiese si svuotano le chiese sono già svuotate perché perdono la vocazione le vocazioni sono già perse cosa è stato lì a tenere in piedi questi circa questri questi edifici che non contano niente se noi siamo di Cristo come lui seguiremo e predicheremo la sua parola anche se farà male e spesso lo farà e non predicheremo quello che si dice politicamente corretto sciocchezze religiose o religiosamente corretto solamente per dare un'appariscenza di religiosità falsa santità e per compiacere cioè quelli che devono dare i soldi dopo che ascoltano per soleticargli le orecchie perché se facciamo questo apparteniamo a una triste categoria leggiamo secondo Timoteo 4.2 predica la parola insisti in ogni occasione favorevole predica dillo chiaro predica la parola insisti in ogni occasione insisti favorevole e sfavorevole capite non aspettate che il vento sia favorevole andate contro vento contro vento Gesù andava contro vento quelli che quelli che vanno col vento sono i buffoni pagliacci politici le chiese morte cioè anche un pezzo di immondizia va col vento e fluttua tra le immondizie in un fiume non andiamo con i flutti non andiamo dove va la corrente andiamo dove va il Signore e spesso volentieri e contro vento vai avanti convinci rimprovera esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza se siete in una chiesa fuori binario rimproverateli esorciateli con ogni tipo di insegnamento e pazienza quando è favorevole e quando è sfavorevole secondo Timoteo 4-3 infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie oggi le tante religioni tante chiese sono diventate non so come una volta c'erano i bordelli cioè la gente si sceglieva il bordello dove c'era una prostituta che più gli piacevano che li trattavano come loro preferivano oggi le religioni sono così vanno a ascoltare la predichella che gli piace a loro mica vanno là col Vangelo aperto la Bibbia aperta vediamo cosa sta predicando questo qua oh sto predicando abbastanza fuori seminato no vanno lì quello gli racconta basalette giochettini clap clap applausi quattro scritture buttate lì facevano meglio i frisei quindi vanno a ascoltare prediche che gli solleticano le orecchie e se no e se no gli solleticassero le orecchie queste non pagare questi predicatori per questi predicatori dobbiamo predicare cose che solleticano perché se no la gente si sposta nell'altro edificio di concorrenza va bene allora quindi perché viene il tempo primo Timoteo quattro quattro cosa faranno ti stoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole ok sta succedendo oggi oggi cosa predicano le chiese favole favole stupidaggini secondo Timoteo 4-5 andiamo avanti ma tu sii vigilante in ogni cosa sopporta le sofferenze svolgi il compito di evangelista adempi fedelmente il tuo servizio allora siamo fedeli stiamo evangelizzando siamo evangelisti o siamo mortisti siamo mortuari cosa siamo o siamo vigilanti sopportando le sofferenze come fai sopportando le sofferenze seduto su una panchina uno parla e tu paghi che sofferenza è questa verso 6 quanto a me io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto ok ecco che Paolo qui il nostro dolce fratello va avanti con Gesù fino alla morte infatti qui era prigioniero io sono andato a vedere la prigione dove lui era imprigionato ero lì che stavo evangelizzando tanti anni fa a Roma vicino a Colosseo c'è una una prigione con una una porta di metallo che c'è scritto questo posto erano erano prigionieri Pietro e Paolo proprio lì a fianco del Colosseo si vede la prigione è ancora lì non l'hanno ancora distrutta adesso il diavolo sta mandando tutti questi islamici a distruggere le sai edifici storici e stanno distruggendo tutti edifici storici che dimostrano la verità della Bibbia il diavolo dice perché l'archeologia è sempre a fuori della Bibbia il diavolo distrugge con la scusa di distruggere gli idoli sta usando questi islamici a buttare giù tutto ma tanto guarda fra poco viene il rapimento non ci interessa niente che buttino giù tutto guarda però la storia mostra proprio a Roma una città secolare i secolari testimoniano che in quel carcere c'era Pietro e Paolo altro che Maometto Buddha e Confucio allora ti ho dato altre scritture cosa ti è rimasto lì 7 ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa ho conservato la fede alleluia potremmo dire questo alla fine di una vita che abbiamo costruito che casa abbiamo costruito una casa con moglie marito figli che hanno gli interessanti del Signore a litigare per uno smartphone a litigare per un computer a litigare per un internet che cosa che cosa abbiamo costruito nella nostra vita che cosa abbiamo costruito guarda posso posso interrompere questo messaggio un attimo sì permetti vorrei saltare ho trovato una notizia oggi oh giornale stavo dando un'occhiata ai giornali eccolo qui il messaggero il messaggero Savona notizie di stamattina notizie italiane Savona a solda cioè paga un amico per uccidere l'anziano padre aveva paura di perdere l'eredità dice aveva soldato un amico per uccidere l'anziano padre perché temeva di perdere l'eredità l'azione del killer è fallita i due sono stati arrestati per tentato omicidio in manetta Rinaldo Costa figlio di Renato 80 anni ex ferroviere eccetera altro giornale La Repubblica Savona tema che il padre lasci la casa alla convivente a solda un amico per ucciderli arrestati la stampa a solda un amico per uccidere il padre temeva di perdere l'eredità la vittima non lo sa ancora il padre neanche sa che il figlio aveva pagato per farlo uccidere la tua fonte giornale a solda un amico per uccidere il padre 80enne temeva lasciarsi la casa alla convivente chiedo scusa se sono saltato ma proprio guarda sto proprio parlando di quello cioè che stiamo stiamo qui a dare la vita ad amici a familiari amici vicini conoscenze eccetera lavoriamoli siamo come schiavi a nutrirli tutto e poi alla fine arrivi 80 anni il figlio che è accudito hai aiutato gli hai gli hai baciato i piedi gli hai comprato l'iPhone gli hai comprato il computer gli hai comprato la bicicletta la motoretta la moto forse la macchina e lo uccide per non perdere l'eredità ma tu cerca di meritarti l'eredità che il padre te la lascia ma se sei come figlio prodigo che si è venduto tutto a prostitute e torni magari neanche come figlio prodigo torni come figlio del diavolo e dice torno solo per incassare e spendemi anche il resto il padre dice no la donna è il mio convivente Dio lo ben dico il padre si vede che non lo meritava si vede che lo convivente si è preso cura di lui e poi se l'eredità va alla convivente vuol dire che la moglie era morta se no non andava la convivente giusto vuol dire che la moglie era morta quindi quello che oggi si chiama convivente in realtà è la moglie solo che le religioni la chiamano convivente ma se tu se tu hai una donna che vi amate e non siete in adulterio quella è tua moglie quella è tuo marito va bene quindi cerchiamo di capire questi punti quindi inoltre che dedichiamo la nostra vita aiutare persone cercate ai figli dategli il Vangelo dategli Gesù perché se no andranno a soldare qualcuno che vi faccia la pelle se non gli date Gesù se non gli date il Signore infatti la Bibbia dice i figli si volteranno contro il padre e li metteranno a morte un'altra scrittura dice i padri li metteranno a morte i figli cioè viviamo in un mondo satanico ok secondo Corinthians 4.4 cosa dice? che il Dio di questo mondo è il diavolo è il diavolo quindi se non date il Vangelo ai figli cosa gli state dando? soldi iPhone smartphone devil's phone eccetera andiamo avanti dove siamo? verso 8 allora vai avanti ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione alleluia alleluia a me ripetiamo come abbiamo letto prima si cercheranno maestre in gran numero secondo le proprie voglie questa è esattamente una fotografia delle religioni di oggi si cerca le religioni che gli fanno fare quello che vogliono per il Signore niente sull'esempio di quei pastori che non fanno niente tranne raccogliere il cestino che viene d'effetto la domenica per quattro prediche che stuzzicare gli orecchi dove sono i pastori che mettono le congregazioni in ginocchio e dire ehi non tornate non vi azzardate a tornare qui settimana prossima se non mi portate un resoconto della gente che avete evangelizzato lazzaroni chi non lo fa dove sono quei pastori dove sono quelli come Gesù come discepoli che dicono qua per me vivere Cristo morire guadagno invece raccontare a basaletta perché la gente paga per la basaletta va bene allora gloria al Signore andiamo ai Fesini 2 guarda perché oggi le religioni cristiane hanno paura di essere perseguitati e cercano di farsi ricevere benevolere dal mondo e per questo come dice Fesini 2 seguono l'andazzo è il vento dei tempi che è lo spirito del Dio di questo mondo il mondo che sta morendo e si chiama il principe dell'aria leggere Fesini 2 2 e 3 ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne ubidendo alla voglia della carne e dei nostri pensieri ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri alleluia ieri il Signore ha dato un messaggio dove sono i profeti Gesù dice dove sono i miei profeti nelle chiese non c'è una chiesa vera che non ci siano profeti solamente che i pastori falsi li tengono in silenzio perché hanno paura che gli prendano il suo posto alleluia alleluia le religioni morte cercano di imparare e cercano di imparare a parlare la lingua del mondo vedi oggi le chiese cosa parla la lingua degli omosessuali la lingua dei politici la lingua dei finanzieri la lingua dell'anticristo che sta arrivando insomma la lingua del Dio di questo mondo dammi quella scrittura Primo Giovanni 4-5 costoro sono del mondo perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta capito oggi le religioni parlano come politici i politici cosa sono? lo scopo della politica interpretare il pensiero della gente mica gli interessi della gente gli interessi che votano appena hanno votato si tolgono la maschera ti tirano fuori un'emergenza dopo l'altro e dicono sì ho promesso abbassare le tasse ma sai ci sono conti da pagare c'è l'FMI il fondo mafioso internazionale che deve pagare debiti e quindi invece di abbassare alziamo e poi quando le abbassano abbassano due stupidaggini e alzano dall'altra parte è vero che abbassano la tassa di qua ma l'alzano di là cosa vuoi che abbassano? bene io mi fermerei qui Angelina cosa dici? ok allora ascoltiamo una canzone di Marcello Marocchi sul soggetto ok cosa c'è? è la casa sulla sabbia oh ok bravissima Angela hai scelto una buonissima nel nome di Gesù Cristo andiamo fratelli alleluia a alzare il cuore a Gesù che oggi Gesù ci dà cose belle come tutti i giorni vai ameno caro amico non ti fermare quando stai per costruire grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti